buongiorno a tutti queste inquadrature con la webcam sono ancora veramente io troppo inesperto ma giusto il collo prima che mi strangolino per quello che sto dicendo perché lo che sto per dire ecco tanto il controllo da dietro chi arriva scherzo naturalmente questo non so se lo vedete si chiama campioni di niente miti improvetta è un selene editore ed è un libro che scrissi qua una decina d'anni fa più o meno sul doping dopo che per altri tanti anni me ne ero occupato non ho mai smesso di occuparmi in realtà è la storia del doping italiano che forse la storia più più importante nella nella truffa sportiva e nella salute degli degli atleti del business che che tutto fa e tutto muove no lo dico perché stamattina leggendo un po i siti dei vari quotidiani nazionali eh tra le stragi eh gli aerei che cadono la gente che muore di fame la notizia principale risulta essere quella di dell'escludere la richiesta di esclusione dalle olimpiadi della russia perché lo stato addirittura doperebbe gli atleti ora me mi sono girati a mille ma mi è venuto anche molto molto da ridere perché è un'ipocrisia assoluta è un'ipocrisia assoluta perché il doping è una storia dello sport di tutto il mondo di tutti gli stati del mondo diciamo eh che partecipano a competizioni importanti eh soprattutto del del mondo occidentale vero è che diciamo eh il doping più cattivo fu inventato dal blocco comunista eh le atlete sovietiche che non si capiva bene se erano atlete o atleti eh le povere atlete cinesi che venivano sottoposte a delle pratiche terrificanti pensate che venivano costrette a essere eh a farsi mettere incinte a farsi ingravidare perché intorno al terzo mese di gravidanza diciamo che la situazione ormonale del del corpo del fisico della testa delle donne è a mille quindi eh producono risultati atletici straordinari e poi subito dopo le competizioni venivano obbligate ad abortire queste erano le pratiche dei compagnucci dell'est della Cina soprattutto in Cina c'era questa pratica così sulla sull'onda dell'insegnamento di Mao Zedong ecco i mitici i mitici però poi voglio dire come spesso accade gli allievi superano i maestri e il doping è diventato a pratica eh accettata a a volte persino finanziata dai dagli enti pubblici dalle istituzioni pubbliche che si occupano di sport e l'Italia ne è stato e ne è tuttora un caso eclatante pur avendo una delle migliori leggi del mondo nello stesso tempo ha il nucleo diciamo di connessioni e di complicità su questa pratica più articolato e più eh radicato del mondo forse eh parte da lontano ovviamente no? eh nel 1974 l'Italia doveva vincere a tutti i costi e fu fatto un patto scellerato io ho tutti i documenti e ho pubblicato tutto questo su tutti i giornali in cui ho lavorato ho cominciato a Panorama poi li ho scritti su GQ ho scritti su tutti i giornali persino sul secolo XIX di Genova insomma da eh da tutte le parti ho scritto di su Panorama ovviamente sì vabbè più di una volta ecco e l'ho raccontato in televisione insomma quindi mi sono preso una quantità di querele infinite le ho vinte tutte una poi con quella del Parma Calcio fu proprio una soddisfazione perché la vinsi con telegramma di scuse da parte della società quindi insomma eh eccezionale eh comunque torniamo all'inizio nel 1974 bisognava vincere allora era in voga una pratica che si chiamava auto emotrasfusione che cosa succedeva è che l'atleta per farla breve si allenava per esempio a Città del Messico che era due metri e duemila metri si allenava in montagna diciamo poi poi dopo andare a gareggiare a Città del Messico non so in alta montagna e al determinato momento veniva come posso dire fatto una trasfusione veniva tolto del sangue dalle rene che veniva poi conservato in provette a eh temperature molto basse eh e poi dopo poco prima della competizione olimpica mondiale eccetera importante di venire tac rimesso eh nelle vene eh e lui partiva come una scheggia perché aveva sangue ossigenato in montagna una quantità di globuli rossi molto importante e che sono quelli che danno la resistenza e questi atleti correvano come delle lippe non si fermavano mai vi ricordate delle degli esploati atleti semi sconosciuti che poi dopo sono spariti del nulla tipo Marcello Fiasconaro non so se ve lo ricordate un mito perché era anche un bel ragazzo però ha fatto un grande risultato e poi boh e poi successe che a un certo punto un giovane atleta eh morì un giovane atleta morì e non si capiva di cosa in realtà un eh un funzionario del CONI molto coraggioso che si chiama Sandro Donati aveva capito e scoperto tutto e quindi eh eh l'auto eh qui l'auto emotrasfusione fu messa fuori legge perché era una truffa sportiva ma era molto dannosa intanto poi non sapevi se era il tuo il sangue che ti infilavano dentro le vene eh quell'atleta di cui vi parlavo morì dopo che fu messa fuori legge fu messa fuori legge però insomma eh nello stesso tempo nonostante fosse stata messa fuori legge il CONI comprò il frigorifero per conservare queste provette quindi era fuori legge ma il CONI continuava a eh come posso dire incoraggiare questa pratica di fatto con i finanziamenti economici a un certo punto fu stipulata una convenzione eh importantissima tra il CONI credo che allora fosse Mario Pescante se non era il presidente era il segretario forse il presidente era Carraro adesso non mi ricordo però Mario Pescante era sicuramente almeno segretario del generale del CONI eh fu stipulato questo accordo tra il CONI appunto e un centro medico il centro medico del professor con CONI di Ferrara un centro sperimentale medico dove andavano tutti gli atleti tutti i grandi atleti a farsi curare a farsi fare i protocolli tutte queste cose qua eh i più importanti atleti dagli sciatori da da Mosera a Tomba dalla Dicenta a non so a a Pantani ecco andavano tutti lì sono andati tutti lì per tanti anni mh a un certo punto ci sono delle delibere del CONI perché eh con CONI cosa aveva scoperto che c'era un farmaco che serviva per curare una particolare categoria di dializzati eh che poteva avere la stessa funzione dell'auto emotrasfusione questo farmaco è praticamente riproduce un ormone nostro che è l'eritropoietina e l'effetto di questo sangue di questo farmaco è che rende più più denso il sangue proprio denso come fosse marmellata e aumenta i globuli rossi aumenta la resistenza e quindi di conseguenza la potenza perché poi viene veniva spesso abbinato la la somministrazione veniva spesso abbinata con il GH, l'IFI, il GF1 cioè i cosiddetti ormoni della crescita bene con CONI scopre questo e il CONI con delle delibere apposite finanzia la sperimentazione praticamente l'acquisto di EPO, di GH, di GF1, di anabolizzanti eccetera finanzia quindi eh a parte che questo centro ha avuto un sacco di soldi ma eh tutte queste sostanze ovviamente erano fuori legge erano fuori legge però siccome poi le farmacie non potevano venderle se non truffaldinamente eh insomma comprava direttamente il centro olimpico nazionale dello sport ecco il CONI il mitico CONI ecco quando si parla di di doping di Stato no e si dice che in Russia c'è il doping di Stato perché non sanno più che a che pesci a pigliare per attaccare Putin eh voglio dire eh no no dopo in di Stato forse siamo stati nel mondo occidentale siamo stati forse i primi a farlo eh proprio così articolato con scienza e ovviamente da quel momento in poi gli atleti italiani cominciano a vincere in tutte le specialità anche più improbabili poi ogni tanto qualcuno sta male, vomita, qualcuno ha una improvvisa trombosi mesenterica perché cosa succede? Che l'epo solidificando il sangue mette l'atleta a rischio di trombosi, di embolia, di di leucemia, si spiegherebbero le morti di alcuni calciatori per leucemia, di di trombosi di vario tipo, cardiaca, mesenterica eccetera, una famosa sciatrice un giorno viene ricoverata d'urgenza in ospedale da Lillehammer, non è che la porta all'ospedale di vicino la porta all'ospedale di Ferrara, stava morendo, trombosi mesenterica, questa fetta prima dice sì basta con il doping poi ritratta tutto e minaccia di querela anche me perché io invece scrivo con tutti i documenti quello che è successo, insomma stava morendo, ci stava lasciando le penne, poi come premio è stata addirittura messa nell'agenzia internazionale antidoping, quella che poi dopo adesso dice che la Russia non deve partecipare all'Olimpiadi, ma quelle sono robe misteri dello squallore umano. Questo accordo io non so se esiste ancora, forse esiste ancora, comunque fu rivelato da una serie di inchieste giudiziari e giornalistiche, ma voglio dire tantissimi personaggi sono stati rinviati a giudizio, tantissime inchieste articolate condotte da carabinieri, guardia di finanza, polizia, eccetera, documentate sono agli atti, i personaggi perché qualcuno contesta e dice sì però da noi finisco in galera, no perché il professor Conconi fu rinviato a giudizio per l'inchiesta fatta dal procuratore della Repubblica, dal pubblico ministero scusate di Ferrara, Pier Guido Soprani, che dopo quell'inchiesta fu praticamente costretto a lasciare la magistratura e è andato a fare l'avvocato del lavoro a Bologna, fu rinviato a giudizio Conconi, fu rinviato a giudizio Pantani, fu rinviato a giudizio il dottor Ferrari e un'altra serie di medici, i dottori Santuccione, padre e figlio, il dottor Ferrari poi aprì uno studio in Svizzera e continuarono ad andare da lui a prendere le sostanze. Pensate che il professor Conconi quando fu rinviato a giudizio, negli stessi giorni fu riconfermato magnifico rettore dell'Università di Ferrara, d'altronde era il migliore amico di Romano Prodi, ma non buttiamolo in politica, ricordate che Romano Prodi andava sempre in bicicletta, qualcuno racconta che addirittura volle sperimentare l'epo su se stesso, ma non è vero probabilmente, però c'erano le lettere tra Conconi e Romano Prodi su questa storia del doping, ovviamente Prodi vendicativo, malmen in colse, perché io pubblicai tutto. Poi ci sono state altre inchieste, c'è stata l'inchiesta del dottor Bocciolini di Firenze, lì peccarono tutti, 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 addirittura dagli alberghi c'erano delle finte escort che uscivano, scappavano con le valigette di notte, guardate, è successo di tutto, trovarono l'epo, trovarono il GH, pensate che i ciclisti dormivano con una ciclette vicino al letto, perché? Perché siccome con l'epo il sangue diventa solido, potevano morire durante la notte, nel sonno una trombose, boom, li fulminava, allora ogni totte ore si alzavano e pedalavano come disperati per fluidificare il sangue. Vi ricordate Galletti, quel gregario che morì di botto sull'Asturia, morì di botto sull'Asturia, ripreso un coccolone per colpa di questa roba qua. E lì poi cominciarono tutte le prime rivelazioni su Armstrong, le fece Filippo Simeoni, nell'ambito di un'inchiesta che si chiamava Oil for Drug, il cui magistrato, poi anche questo, finito fuori dalla magistratura, gliene sono successe di tutti i colori, hanno detto che era amato, gli hanno fatto la perizia psichiatrica, qualsiasi cosa, Mario Ferraro si chiama. E Simeoni fu messo sotto scorta dai carabinieri nella sua casa di Sezze Romano perché Armstrong durante il Giro d'Italia lo aveva minacciato, lo aveva minacciato, mi ricordo durante il Giro d'Italia o di Francia, lo aveva minacciato, poi si è visto chi è che aveva torto e chi aveva ragione, ma questo povero ragazzo che non c'era le spalle coperte, che si era rifiutato di doparsi, ci aveva un potentone come Armstrong che lo costringeva a vivere con i carabinieri, andare in bicicletta con i carabinieri, perché comunque vince, come sempre vince il male, purtroppo vince il male, è così, è il doping, è il male. Sto andando abbraccio perché è una cosa proprio che mi prende dentro, chissà per quanto parlerò ancora. Quindi ricapitolando, inchiesta di Ferrara, magistrato fatto fuori, inchiesta di Firenze con il magistrato che chiese in un'intervista fatta a me di sospendere il Giro d'Italia perché era una situazione zozza, proprio zozza, e quel magistrato poi è passato a fare altro. Magistrato Romano, addirittura anche lui uscito dalla magistratura, non si poteva toccare, non si poteva e non si può toccare, ma quante volte noi abbiamo visto nel giro di pochi giorni, titolo in prima pagina, De Luca positivo all'epo, ematocrito sopra il 51%, e una settimana dopo De Luca eroe della tappa del Giro d'Italia, la schizofrenia, da una parte gli stessi atleti quando si dice che vengono puniti, non è vero, hanno continuato a fare le loro gare come se niente fosse e per farla a quel livello hanno continuato a dopparsi, poi ogni tanto schiatta qualcuno, poi ogni tanto qualcuno si ammala, nel calcio è stata una tragedia, una tragedia, cacciatori morti in campo, cacciatori morti dopo, cacciatori con la SLA, cacciatori morti di leucemia, cacciatori con tumori più incredibili, cacciatori con le ossa sempre rotte, la storia di Ronaldo, del fenomeno, che aveva sempre questo ginocchio malandato, era semplicemente il risultato delle operazioni dopanti che subì in Olanda, altra patria del doping e Cruyff adesso ne sta pagando le conseguenze, altra patria del doping, gli davano il GH, il GH fa crescere tutte le nostre giunture, il ginocchio diventa grande, ma la cavità dove sta il ginocchio è sempre uguale, quindi è sempre uguale, poi crescono le parti sane e le parti malate e c'erano questi due medici olandesi, miti del doping, radiati dall'ordine dei medici diciamo olandesi e immediatamente assunti come consulenti da una famosissima squadra di calcio italiana, questo venne fuori quando ci fu la vicenda del Piero Vialli che erano esplosi nel giro di un anno, erano esplosi in massa muscolare di 10 kg, insomma un altro famoso calciatore che mi ha querelato, non solo andava regolarmente in Svizzera dal dottor Ferrari a farsi fare tutto il protocollo, qua questo libro io ho pubblicato, le agende di alcuni atleti che cosa dovevano fare, passavano il giorno, la giornata a ricordarsi a quest'ora devo prendere questo, a quest'ora devo dare tot, migliaia, tot, milioni di… se no mi va, buttano fuori squadra eccetera, questo calciatore diciamo, persino la società a Montecarlo con uno che in quel momento era in galera per riciclaggio di danaro, sporco, nastrizia quando ho scritto sta roba perché poi ovviamente non è che ho ricevuto delle minaccette diciamo così perché quello è un mondo… tutto questo ha comportato una conseguenza, la lotta al doping voglio dire, la lotta al doping non è nulla rispetto alla battaglia a favore del doping che si modifica sempre, oggi si parla addirittura di doping genetico, comunque nessuno in realtà intende combatterlo, vi ricordate quella campagna che fu fatta, io ho un lotto contro il doping in cui gli atleti venivano sottoposti a controlli improvvisi, i controlli improvvisi erano questi, me lo raccontò un maratonetta che si chiamava Barbie che ebbe il coraggio di raccontarmi in un'intervista questo, lui si dopava, lo beccarono positivo, non corse più per un po', poi ovviamente con le solite ipocrisie, poi aderì a questa campagna e i controlli che dovevano essere improvvisi, lo avvertivano dieci giorni prima, dicevo guarda domani alle cinque passiamo a farti il controllo per vedere se il tuo ematocrito, la tua urine eccetera eccetera, quindi questo era, la campagna contro il doping era questo, era questo, quindi non venitemi a raccontare che sono tutti, tutti coinvolti, ma gli atleti ok che sono coinvolti e sono vittime, le società sportive, le federazioni sportive, il CONI, tutti, tutti, tutti i processi sono finiti in una bolla di sapone a parte quei tre, il processo di Guariniello, Guariniello fa sempre dei casini eccetera, in una bolla di sapone, quelli fatti anche da persone per bene, da avvocati per bene all'interno del CONI, in una bolla di sapone perché non è cambiato nulla, l'unica cosa vera che è successo, siccome queste pratiche che sono truffe sportive, che sono truffe che coinvolgono le grandi case farmaceutiche, perché da qualche parte devono uscire queste sostanze che dovrebbero essere solo destinate alla vendita con ricetta medica per alcune, non so, il GH per curare il nanismo, l'epo per curare quelli in dialisi eccetera. Quello che è successo, che poi parte di questo mercato è finito nelle mani della camorra, quindi noi abbiamo uno scenario in cui la camorra, le case farmaceutiche, le istituzioni dello sport, le federazioni e i grandi atleti sono tutti coinvolti, tutti coinvolti e che vuoi combattere contro questi qua, sì col Kalashnikov, o sospendendo tutto, ma sospendendo tutto capite bene che si ferma il business, poi non so neanche se sia giusto, perché non lo so se sia giusto, però che poi la conseguenza vera e terribile di tutto questo, in Italia in particolare è che è diventato un fenomeno di massa il doping, perché l'emulazione del giovane atleta o del dilettante, l'emulazione del grande passa anche attraverso quello, noi abbiamo degli uomini di 30, 40 anni, 50 anni che sono dei ciclisti amatoriali che si bombano, si bombano, ma io vorrei leggervi alcune delle conseguenze provocate dal doping, se riesco a trovare questo capitoletto, questo paragrafetto all'inizio, allora, cosa può provare, vivi allora, cosa può provocare il doping? dunque, allora, può provocare, vediamo un po', vediamo un po', allora, steroidi anabolizzanti provocano, provocano, acne, perdita di capelli, emicrania, aggressività, difetti di nascita molto gravi come la presenza di elementi maschili in un feto femminile, scusate, ma vale la pena, perché così anche i ragazzi, poi vi spiego e finisco il mercato di dilettanti e viceversa, rallentamento del processo di coagulazione del sangue si sono affiancati da vasodilattatori come caffeina, aspirina e defedrina, depressione grave come si nota molto spesso nei bodybuilders, malattie cardiovascolari per l'accumulo di colesterolo, cancro al fegato, atrofia testicolare, disfunzioni sensuali, iperallargamento della prostata, spesso generano anche l'ipercortisolemia, disfunzione dovuta all'aumento del livello dell'ormone catabolico cortisolo che causa una forte perdita del muscolo, depressione, un notevole abbassamento del sistema immunitario. Il dianabol e il testosterone sono portatori anche della ginecomastia, lo sviluppo di tessuti femminili soprattutto del seno, soprattutto del seno negli uomini, l'unica soluzione è l'asportazione chirurgica, pensate, uno che pensa di diventare forte diventa una femminuccia. L'effetto analogo lo subisce anche chi assume il Durabolin, il primo Bolan e il tanto in voga Winstroll, che alle donne fa crescere i peli sul viso, sul seno e trasforma il tono della voce. Insomma, se va bene, a un certo punto si diventa mosci-mosci o ci si trasforma in mostri. Cose analoghe valgono anche per l'epo, che provoca tutto quello che abbiamo visto prima, l'eucemia, insufficienza renale, anche l'eucemia, trombosi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, dicevamo che tutto questo ha provocato una diffusione del doping a livello di massa, con la camorra che ormai ci fa un business colossale. Vi ho detto di persone che fanno un po' di sport, che vanno in bicicletta domenica e si bombano, ma il dramma vero sono gli adolescenti, i bambini e gli adolescenti sono stati fermati e arrestati dei genitori che andavano a comprare l'epo al mercato nero per i figli adolescenti di 14-15 anni che giocavano in una squadra di calcio, sono stati fermati e arrestati e uno di questi, quando i carabinieri l'hanno fermato, era un operatore della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza è un'altra struttura di polizia giudiziaria che ha fatto degli ottimi lavori contro il doping. Siamo a livelli assurdi, quindi non venitemi a dire che c'è, che sì però in Russia è una cosa di stato, di dopano tutti. Il doping di stato nel mondo occidentale è nato in Italia, qui resiste e qui continua a fornire danaro e risultati falsificati, oltre a riempire i pronto soccorsi degli ospedali. C'è tutto. Ciao. 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 Grazie a tutti.